Qua è un dinosaurio? Un dinosaurio? Perché muove e non è tutto capisci E' un animale, un dinosaurio Ma è un livello qualcosa che si può fare E' un animale Enzo dong! No, è l'anzo da vicino 16 giga da 10 euro Sì No questa, quella là Così qui La chiavetta Sì scusami per me Pari 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 Anche Sampan Pari Parisi Parisi Un cattolino Anche Da Questa è un cattolino Cosa Cosa E' un coro E' un giro Un cavo Questa è un cavo Questa è un cavo Grazie a tutti. Il dinosauro è l'animale. Diciamo che il termine fidanzata dell'uomo ragno calza a pennello con la seducente Felicia Ardi, alias la gatta nera. La relazione tra Felicia e Peter fu parecchio instabile e a tratti anche malata. Mi piace la musica del... Il dinosauro è un po' di 12 euro. La mia cosa è carica è di 20 euro. Tutta roba aumentata. No, non c'è più da mezzo. No? Essa no, essa 44. Bene, mi scelgo.